Noi vogliamo chiudere Martucci, chiudere, chiudere, chiudere Martucci, noi vogliamo chiudere Martucci. Mentre nell'aula consigliare si discuteva e in tarda serata si approvava il nuovo piano regionale dei rifiuti urbani, fuori dalla sede della regione Puglia alcuni cittadini del comune di Conversano e Mola protestavano a gran voce contro la riapertura della discarica Martucci, una battaglia che va avanti da anni per evitare la riapertura di un'area fortemente inquinata. Il risultato delle indagini geognossiche sul terzo lotto infatti confermano che il sito di aria vasta di Contrada Martucci è sostanzialmente contaminato. Io chiedo al mio presidente Michele Emiliano di cambiare la storia della regione Puglia. La regione Puglia dai tempi del Medioevo è sempre stata la pattumiera dell'Italia. A gran voce mi chiamo Giussi Terrafino, Michele tu lo sai bene, tu sei il mio presidente, sei il presidente di tutti noi. Stralzo Martucci, basta, 048, basta! Noi siamo giovani e come giovani noi lottiamo per le battaglie giuste. La battaglia giusta di oggi è chiedere la chiusura di una discarica che tanti danni sta facendo a noi giovani e a tutta la nostra comunità cittadina. Noi chiediamo basta all'ipocrisia della politica, chiediamo che la politica faccia la politica. La battaglia giusta della politica di oggi è chiedere la chiusura di questa discarica. Emiliano, ci preghiamo di pensare al nostro futuro e alla nostra vita.